Marie era la mamma di mio marito. È stata lei ad aprire il primo pastificio artigianale a Barbariga. A Barbariga quasi in tutte le famiglie si facevano casuncelli in casa. Avevano un asse nel salotto, si spostavano i mobili, si rompevano le uova a mano, si faceva l'impasto a mano, tutto a mano in pratica. La mia suocera è stata lungimirante, ha aperto un laboratorio vero e proprio. È stata la prima e per parecchi anni è stata anche l'unica. Marie ci teneva a scegliere ingredienti di buona qualità e anche noi portiamo avanti questa tradizione e ci teniamo molto a ingredienti buoni del territorio. La ricetta di mia suocera è quella depositata in comune, la ricetta DECO, denominazione comunale. Se gli altri laboratori vogliono mettere DECO sulla loro confezione, devono seguire questa ricetta. I casuncelli vengono fatti secondo la ricetta della tradizione, usando soltanto prodotti freschi e naturali, per mantenere intatto il gusto di un tempo, per avere un buonissimo casuncello. La ricetta di mia suocera è stata un buonissimo casuncello.